Un agguato in piena regola ha scosso la quiete dell'ex borgata tarantina. Sono stati esplosi otto colpi di pistola nel centro di Statte, in via Tripoli. Un uomo di 44 anni di origini tarantina è stato colpito da quattro proiettili calibro 7,65 all'addome e ad un braccio. Soccorso è stato trasportato all'ospedale Santissima Annunziata, dove attualmente ricoverato, in progno si è riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. Pare che l'agguato sia stato compiuto da due persone, poi fuggite, che hanno fatto perdere le loro tracce, indagano i carabinieri del comando provinciale di Taranto. Stando a quanto sia preso, la vittima sarebbe stata attirata con uno stratagemma alla finestra dell'appartamento, dove abita. Una volta aperta la tapparella, sarebbe partita la pioggia di fuoco. L'uomo ferito non avrebbe precedenti, le indagini non escludono comunque nessuna ipotesi. Il ferimento è avvenuto nella notte tra il 25 e il 26 agosto. Gli inquirenti hanno vagliato anche alcune immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.